Purtroppo la più sciagurata delle ipotesi si è verificata in quello che ormai i residenti di Rosciano chiamano il ghetto ovvero il loro quartiere tagliato fuori dalla città stretto tra la nuova viabilità di via Tommaso Campanella e l'interquartieri e proprio per rientrare a casa a Rosciano su via Campanella dopo la palestra senza percorrere le pericolose rotatorie che una ragazzina di 15 anni in bicicletta ha rischiato di finire sotto un'auto. Questa realizzazione che è stata fatta non nell'ambito dell'interquartieri questo è stato un progetto a parte fatto quest'estate realizzato senza chiedere il parere o il consenso insomma degli abitanti del quartiere e piuttosto insomma diciamo che dopo quella chiusura di Rosciano in questo ghetto quello che temavamo è successo perché venerdì scorso una ragazzina di Rosciano 15enne tornando dalla palestra quindi venendo da questa parte da questa direzione verso Rosciano cosa ha fatto? Nell'attraversare nel venire qui a Rosciano ha attraversato purtroppo senza guardare bene ma si è esporta nella strada che è talmente stretta e appena è entrato nella strada per voltare mentre stava girando per guardarsi ma non ha fatto tempo è stata presa da un'auto allora intanto la cosa per fortuna la cosa è andata bene perché la ragazzina ha preso una bella botta ma non è successo nulla di grave però il problema rimane ecco e lo voglio segnalare lo vogliamo segnalare perché perché non è possibile che non ci sia un attraversamento per i pedoni pur essendo colpa della ragazza pur essendo colpa della ragazza non è possibile che non ci sia un attraversamento e qua si può vedere non è possibile che non ci sia lo spazio per una bicicletta per pedoni per passare in queste strade come dicevamo l'altra volta come ci siamo detti più volte siamo completamente chiusi però voglio dire la cosa è successa è andata bene per fortuna è andata bene però la cosa è successo cioè la vita purtroppo la vita non aspetta come dicevamo l'altra volta no cosa vi dicevo l'altra volta cioè fate presto lo dico insomma chi deve decidere fate presto perché la vita non aspetta